Salve ragazzi, buongiorno, sono Mauro del Disco Fiorentino, nonché proprietario della serra attualmente che voi vedete, nonché cliente di Animal House di Nino Provenza. Questa praticamente che voi vedete è la seconda serra che io faccio, ho voluto di fare questa per migliorare, sono tornato da Nino Provenza perché comunque sia lui è una persona che con il vetro diciamo che ci sa fare, le vasche le fa egregiamente belle, sono veramente contento, sono belle, funzionali, il vetro è molto bello e niente, ecco qua ho i miei discus, praticamente con lui mi sono sempre trovato bene, non ho mai avuto nessuna screzza, nessun, diciamo veramente niente e niente, che io vi devo dire, queste sono tutte vasche selezionate, viaggiano a sé, tutte singole, nonché una sola che c'ha la SAM sotto, per il resto tutte vasche con una funzionalità egregia, questa particolarmente è la mia, che vi devo dire io, qua ci sono dentro pesci selezionati e niente, ringrazio sempre Nino e lo saluto, ciao! Grazie a tutti!